Sono fatto così, sono una persona che ride e scherza anche nei momenti magari dove c'è da pensare altre cose, ma è capitato anche di avere il telefono in panchina durante l'iscaldamento e rispondere ai miei amici in curva per dirti cose che poi ripeto, sono cose che ci pensi a mente e fredda e dici ma cosa ho fatto? Però sai erano momenti che per me di distrazione non era l'obiettivo del calcio, il pallone, l'obiettivo del calcio a me era quando entravo nel campo e allora era solo quello, però fuori era un modo come distrarsi forse e non pensare troppo a quello.